la verità alle 7 la resegna politicamente scorrettissima della verità che torna dopo un giorno di pausa perché sono tornati i quotidiani in edicola, quotidiani che sono chiamati al recupero dei fatti del primo maggio fatto dal governo che prevede un taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi un intervento di stretta sul reddito di cittadinanza e delle misure di maggiore flessibilità sui contratti a termine e per altro verso la reazione dell'opposizione sindacale, dell'opposizione politica dell'opposizione mediatica del concertone attenzione perché sul lato del governo oggi si dà anche conto di una dichiarazione resa nel corso di un'audizione in commissione dal vice ministro delle finanze Leo che ha evocato non solo la possibilità in sede di legge di bilancio di una stabilizzazione dei tagli fatti l'altro giorno che come è noto valgono per sei mesi quindi la prima sfida per il governo è trovare i 10-11 miliardi annui per stabilizzarli ma ha anche evocato la possibilità di un alleggerimento fiscale delle tredicesime e anche questo è un aspetto che è valorizzato dai giornali diciamo favorevoli al governo e i giornali contrari al governo sparano a palle incatenate e anche con una convergenza il manifesto sceglie il fotogramma conclusivo del video girato con la Meloni protagonista per illustrare le misure e il titolo del manifesto è fiction la stessa foto la sceglie il fatto quotidiano che parla naturalmente di balle di presa in giro ai danni degli italiani dei lavoratori eccetera ma insomma non sono poi così dissimili i toni della stampa l'editoriale è affidato a Massimiliano Panarari che evoca House of Cards quindi insomma la serie televisiva sui inganni del potere americano occhio però anche a Repubblica che in quasi in gemellaggio col giornale del suo ex editore Domani De Benedetti quindi c'è questa singolare convergenza tra Repubblica e Domani si lancia o meglio lancia le manifestazioni che per tutto maggio e giugno sono annunciate dai sindacati e addirittura arriva ad auspicare con Francesco Bey che quella sia diciamo il fuoco nel quale si possa fondere o saldare l'alleanza tra PD e 5 Stelle siamo arrivati a questo che altro segnalare? beh attenzione Lucia Annunziata siamo ormai al terzo articolo che è sotto forma di analisi sulle strategie della Meloni è diciamo una terza captazio nei confronti dei neonominati capi delle società quotate lo diciamo da qui questi signori chiamino Lucia Annunziata le affidino qualcosa un centro studio una consulenza altrimenti qua che dobbiamo arrivare al dodicesimo articolo è mentre Antonio Polito reduce durante il ponte del primo maggio da una difesa della Schlein e delle sue scelte armocromatiche difesa diciamo che rischia di funzionare come una specie di aggravante per la serie accorrete accorrete allontanate i soccorritori che rischiano di peggiorare la condizione della vita non pago di questo oggi Antonio Polito riprende un'altra un altro grande classico di una serie di editorialisti non lontani dal Quirinale che cominciano a mettere in guardia dalla elezione diretta di qualunque cosa del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio l'importante è non toccare il ruolo di garanzia di quelli che vengono chiamati poteri neutri cioè poteri molto spesso diventano senza alcuna legittimazione contro poteri rispetto alle scelte elettorali dei cittadini oggi è anche il giorno dell'esordio del riformista di Matteo Renzi lo vedremo e poi naturalmente una serie di segnalazioni finali la Rai con il foglio che ci svela i piani della Lega sulla Rai speriamo che sia una sequenza di malignità del foglio se no diciamo c'è da versi il segno della croce il fatto che non si dà tregua per il fatto che sia andato male il processo sulla trattativa e poi Saviano sulla stampa che scaglia un altro anatema mancava da 20 giorni sui giornali e quindi oggi c'è il grande ritorno in modo polemico lo mette in prima pagina libero per delle dichiarazioni improvvide di Saviano sul primo maggio ma poi c'è un'intervistona sulla stampa in cui scaglia una specie di maledizione dicendo l'Italia finirà come la Serbia va bene vedremo tutto questo e diverse altre cose le aperture la verità in odio alla Meloni il PD si sbugiarde il Nazareno difende reddito di cittadinanza e decreto dignità due misure a cui aveva dato voto contrario e sulle quali aveva speso parole di fuoco accusava il governo di favorire gli autonomi ma ora strilla perché si mettono soldi in tasca ai dipendenti così la verità di questa mattina restiamo sul versante destro libero foto di Saviano il paladino dei fannulloni il diritto di vivere a sbafo il lavoro altro che festa lo scrittore denuncia l'orrore dell'occupazione e della fatica restiamo a destra con il giornale i rosiconi delle tasse opposizione in crisi di nervi dal PD a Renzi dalla CGL a Conte la Meloni ha tagliato il cuneo fiscale e loro non fanno che criticare ma su bustapaghe e sussidi si cambia davvero e poi il tempo nuovi tagli alle tasse andiamo a vedere quelli che invece sono critici il manifesto la foto del fotogramma finale del video Meloni dell'altro giorno fiction sul fatto stessa foto titolo tasse precari reddito le balle del Meloni show e ancora la stampa buste paga 100 euro in più ma è un bonus a orologeria un lettore distratto della stampa potrebbe pensare che ricevendo la busta paga si tratti di un pacco anarchico che poi veramente Giannini e la Cuzzo Crea si superano ogni giorno Repubblica piazza grande mobilitazione sul lavoro CGL Cisle e Will manifesteranno contro le misure del governo Meloni PD e 5 Stelle si uniscono a loro e attenzione Francesco Bay il fronte dei sindacati così Repubblica praticamente la stessa scelta la compie domani i sindacati mobilitano le piazze contro la propaganda di Meloni andiamo a vedere il Corriere della Sera che invece sceglie un altro tema il rialzo dell'inflazione e realisticamente poi le misure che la BCE prenderà in direzione ulteriormente restrittiva l'inflazione cresce ancora è il titolo del Corriere e il seguito ce lo dà il sole nuova fiammata del caro prezzi un'arma in più per i falchi di Fed e BCE mentre il messaggero recupera il tema della tredicesima quello evocato da Leo in audizione meno tasse sulla tredicesima annuncio che il viceministro Leo nella riforma una flat tax sulla mensilità aggiuntiva così le aperture dei principali quotidiani vi ricordo perché i ponti possono averci fatto mentalmente perdere il senso dei giorni oggi è mercoledì trovate se volete in edicola non solo la verità ma pure panorama titolo un'Italia senza gli italiani io mi permetto diciamo sul versante culturale di raccomandarvi una bella intervista a Milo Manara riprendiamo il giro dalla verità allora il pezzo di apertura è firmato da chi vi parla e elenca tutte le contraddizioni della sinistra rispetto al decreto lavoro difendono adesso il reddito di cittadinanza e il decreto dignità ma votarono contro dissero durante la manovra che il governo privilegiava gli autonomi ma adesso che vengono privilegiati i dipendenti protestano lo stesso avevano descritto gli imprenditori come pronti ad assumere ma adesso li presentano come pronti a licenziare la scadenza dei contratti a termini dicono contestualmente che ci sono troppi soldi e infatti votarono contro lo scostamento di bilancio la scorsa settimana ma che l'effetto è troppo leggero sulla busta una sequenza di contraddizioni insostenibili Giorgia Pacione di Bello vi spiega bene i contenuti del decreto mentre il direttore Belpietro nell'editoriale va all'attacco della controproposta della Schlein quella contenuta nella intervista che vi abbiamo letto venerdì sulla stampa di Torino più tasse per tutti in particolare sulle proprietà immobiliari già gravate da una tassazione come sapete esorbitante 21 miliardi di e poi le mitiche rendite che poi sono i risparmi degli italiani interessante anche quarto pezzo diciamo del blocco Marcello Veneziani su Piero Pelù reduce da anni di proclamata lotta contro il potere si è presentato con una maglietta di un mattarella punk e Veneziani naturalmente fa sarcasmo dicendo il nuovo idolo è mattarella diventato c'è Guevara ecco va peraltro segnalato in questa cosa diciamo di questi artisti combattivi vi ricordate Benigni a Sanremo Piero Pelù al concertone che poi c'è sempre l'applauso l'applauso del palazzo allora erano tutti presenti direttamente mattarella zampetti grasso stavolta il capo ufficio stampa grasso ha fatto sapere dove si prende questa maglietta con la foto di mattarella punk questi artisti nei giorni pari vogliono la patente di quelli che lottano contro il potere nei giorni dispari sono ricevuti a corte va bene mentre Borgonovo dice la sua opinione sulla polemica che si è generata per l'esibizione del fisico Rovelli dal palco e gli attacchi a Guido Crosetto è Camilla Conti che vi spiega molto bene la questione della bomba inflazione i prezzi che rialzano la testa con tutte le preoccupazioni che ciò determina mentre Claudio Antonelli a proposito della vicenda ex Whirlpool vi dice guardate che il governo adotta una misura diciamo tipo golden power fissando però questa volta paletti sull'occupazione quindi l'elemento della salvaguardia occupazionale come parametro per l'ok o no a determinate operazioni Sergio Giraldo su una specie di nemesi prima autoelettrica 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 e ora però in diversi paesi comincia una extra tassazione sull'auto green Giorgio Gandola sulla questione immigrazione e sulle tendopoli che vanno diffondendosi in diverse città generando problemi anche per sindaci di sinistra e poi la sezione internazionale Stefano Graziosi sulla Turchia il voto è vicino sapete delle diciamo precarie condizioni di salute di Erdogan avete letto su diversi giornali anche una celebrazione del suo avversario e figurarsi se da qui ci mettiamo a dire Erdogan è quello rassicurante dei due no però attenzione dice Graziosi guardate che pure dall'altra parte non c'è da stare allegri né rispetto al parametro filo occidentale né rispetto al parametro della vicinanza o lontananza da Mosca e neanche rispetto al parametro diciamo islamismo ecco vi spiega tutto molto bene Graziosi riprendiamo il giro dalla questione del 25 del primo maggio le misure del governo sulla verità ve le spiega Giorgia Pacione di Bello vi sono dei giornali abbiamo evocato l'apertura del messaggero ma vi do anche conto di quello che fa libero a pagina 2 con Antonio Rapisard che si portano avanti con lavoro la prospettazione sulla tredicesima del viceministro Leo una scelta interessante la fa anche il giornale che fra diciamo i quotidiani a supporto del governo sceglie però di affidare l'editoriale a Carlo Lottieri che chiede di più in particolare per una fascia diciamo che non è stata raggiunta dai benefici dei provvedimenti di Borghese è il titolo che viene scelto e scrive tra l'altro Lottieri non è solo urgente ampliare l'area di quanti potranno godere di imposte più contenute ma in più bisogna disboscare quella fitta giungla di leggi e regolamenti che ostacolano chi voglia intraprendere e realizzare profitti in Italia da decenni si assiste alla diminuzione del numero delle imprese abbiamo quindi da affrontare non solo una grave crisi demografica ma pure una costante moria delle aziende il governo potrà dire di aver avuto successo quando non si guarderà più all'apertura di una partita IVA come una sciagura da evitare assolutamente e ancora è noto che in Germania ogni intervento edilizio all'interno della propria abitazione non esige autorizzazione pubblica perché non si fa lo stesso da noi sappiamo quanto è diverso il mercato del lavoro in Danimarca perché non replichiamo il modello in Svizzera un avvocato può svolgere pure l'attività del notaio non sarebbe il caso di rendere legittimo pure a Milano ciò che lo è già a Lugano nei primi vent'anni successivi alla fine della guerra l'Italia ha conosciuto un formidabile sviluppo e uno dei motivi oltre alla bassa fiscalità era proprio la semplicità dell'ordinamento se non si riparte da lì difficilmente si potrà risalire la china molto bene a mio avviso Lottieri andiamo invece a vedere i giornali fortissimamente critici e diciamo pure uniformi in una critica che a questo punto affascia CGL Partito Democratico Movimento 5 Stelle vi ricordate quando qualche tempo fa un malcapitato chi vi parla spiegò che spiegò per carità si permise di prospettare il rischio di una specie di grande fascio qui ci vuole le fascine con la scura e poi la scura chi la fa l'annunziato le fascine rappresentate da CGL PD in versione Schlein naturalmente 5 Stelle e aggiungevo Sant'Egidio e quel tipo malmene incolse diciamo rispetto a qualche conduttrice televisiva ora avviata diciamo verso il 3% di share soglia che può anche sfondare diciamo verso il basso e però oggi ci siamo se vuoi manca Sant'Egidio diciamo all'appello ma la cosa è un po' questa Repubblica Piazza Grande è il titolo di prima pagina 2 Giovanna Casadio mobilitazione permanente le piazze dei sindacati uniscono PD 5 Stelle e Sinistra pagina 3 Giovanna Vitale la tela dell'opposizione per parlare ai lavoratori è sfida Schlein Conte ma si capisce diciamo sul medesimo tipo di piattaforma e con il medesimo tipo di interventori e poi diciamo le cose più violente contro la Meloni Francesco Merlo nella rubrica delle lettere sul fatto che Meloni non abbia fatto la conferenza stampa però pare gliel'avesse chiesto Landini di non farlo e abbia fatto il video il video discutibile per carità ma è ancora più discutibile ciò che dice Merlo non è la prima volta che si rifugia nel video che mi pare stia diventando il suo strumento la sua cifra la sua tana del coniglio il video del coniglio quindi Merlo che già aveva usato delle volgarità inenarrabili la reginetta di Coattonia oggi da del coniglio alla Meloni non è da meno Marco Belpoliti la venditrice di Palazzo Chigi in principio era la scrivania Silvio Berlusconi parlava seduto al riparo di questo oggetto simbolo del lavoro impiegatizio e anche manageriale e adesso invece siamo a quest'altra fase ma non perdiamo il filo però perché il punto è un altro ed è l'endorsement a questa specie di fascio CGL 5 Stelle PD che avviene nell'editoriale messo in prima che poi gira nella pagina dei commenti di Francesco Bei il seme dell'alleanza e si evocano tutte le manifestazioni previste questo mese accadrà il prossimo sabato a Bologna poi a Milano infine a Napoli con il PD e i 5 Stelle che si ritroveranno fianco a fianco nelle manifestazioni convocate dalla triplice per dire no alla precarietà no ai tagli mascherati a sanità pubblica e istruzione difficile dire se sarà questo il primo seme di un'alleanza tra forze politiche che ancora giocano le une con le altre a farsi sgambetti quotidiani ma se si coltiva l'ambizione di costruire un'alternativa al governo più a destra della storia repubblicana quelle piazze sono il terreno più favorevole per farlo attecchire allora per mesi vi avevamo letto e per fortuna continueremo a leggervi ancora i commenti di Stefano Folli che indicavano diciamo una opportunità opposta per il PD quella di divaricarsi dal Movimento 5 Stelle e ora invece leggiamo una linea che è per paradosso ancora più diciamo unitaria rispetto a quella del fatto il fatto gioca spesso sulle differenze tra PD e 5 Stelle sulla guerra sull'ambiente diciamo per tenere su i 5 Stelle per diciamo evidenziare il quid pluris che i grillini porterebbero con sé qui invece abbiamo Repubblica e dice beh metteteli insieme così Repubblica andiamo a vedere il fatto quotidiano il fatto quotidiano dove sta eccolo qua allora la foto di prima è il fotogramma finale del video Meloni tasse precari reddito le balle del Meloni Show pagina 2 taglio le tasse precariato reddito cittadinanza ecco tutte le bugie di Meloni e C e attacco da sinistra di Selvaggia Lucarelli ad Ambra colpevole di non avere anche lei scagliato qualcosa contro Crosetto capolavoro Ambra ha fatto rimpiangere perfino la pitonessa diciamo L'Angiolini oltre a fare i suoi comizi che doveva raggiungere la sede del ministero della difesa e farsi esplodere contro Crosetto non l'ha fatto e quindi la Lucarelli la attacca ma attenzione è niente rispetto a ciò che c'è nella pagina dei commenti il professor De Masi gran consulente dei grillini lavoro Meloni liberista tipo Thatcher Pinochet direte voi ma che c'entra la Thatcher con Pinochet non c'entra niente però così a cazzo mettiamoci ed è appunto questa visione che fa paura perché ricorda i disastri neoliberisti della Thatcher e di Pinochet vale la pena a futura memoria di ricordare cosa avvenne in Cile e naturalmente qui c'è tutta la cosa di Milton Friedman in Cile va bene conclusione anche in Italia dopo aver precarizzato tutto il mondo del lavoro sarà necessario tenere a base i conflitti che ne nasceranno allora un po' di autoritarismo di tipo cileno sarà invocato dagli stessi media conservatori che all'apparire del reddito di cittadinanza lo coprirono di critiche sprezzanti e con questa cosa che dobbiamo immaginare che gli ex percettori di reddito di cittadinanza appicchino fuochi e che la polizia di Piantedosi li chiuda negli stati questo è lo scenario va bene professor De Masi e quelli di Repubblica vogliono fare l'accordo con questa gente qua molto bene non è contento però neanche il foglio che come sempre il foglio diciamo fa la critica competente quelli che ti spiegano come si sta il mondo e cosa devi pensare diciamo oh ma questi tagli bisogna puntare sulla delega fiscale e puntiamo sulla delega fiscale ben altro e ben di più la riscrittura completa organica semplificata e migliorativa delle regole fiscali sarebbe sì un'occasione storica attesa da 50 anni è alla portata di questa maggioranza ma meglio accelerare con la delega senza perdere troppo tempo in favore di telecamera nei corridoi del palazzo e come sempre quelli che sanno tutto capiscono poco è una regola tipica dei competenti perché la delega fiscale che cos'è? è lo strumento che viene storicamente utilizzato per la riscrittura se vogliamo della forma della architettura di un sistema fiscale altra cosa è poi il quantum dell'imposizione fiscale e il governo deve mettere mano all'una e all'altra cosa all'una alla forma all'architettura con la delega ma poi c'è un tema di alleggerimento fiscale che va fatto o con interventi come quello dell'altro giorno e poi auspicabilmente con le prossime quattro manovre semmai la cosa saggia è quella di Lottieri che gli dice prosegui nel percorso di abbassamento anche rispetto ad altre fasce di elettorato andiamo a vedere un altro giornale che va all'assalto ed è la stampa naturalmente il titolo di prima ve l'abbiamo già fatto leggere buste paga 100 euro in più ma è un bonus a orologeria la famosa busta paga la busta paga anarchica anarcho-insurrezionalista che si fa esplodere nelle mani nelle mani va bene questo è la stampa e poi il fact checking che non manca mai è Renzi il re del taglio delle tasse ecco i numeri che Meloni non dice pure a Marcello Sorgi non va bene che la convocazione sia avvenuta il primo maggio nell'attesa resta da chiedersi Meloni convinta dei risultati che il suo decreto porterà e della necessità per i sindacati di rivedere le proprie posizioni giusto il primo maggio doveva scegliere per presentarlo non si fa surreale il titolo di pagina 6 il decreto primo maggio stralcia il reddito dei 5 stelle e rilancia i voucher precari dice mettici un po' di precarietà mettici due vongole i voucher sono invece lo strumento per definizione contro il lavoro nero per una serie di lavoretti di piccole attività che altrimenti avverrebbero materialmente in nero matematicamente in nero lo strumento del voucher serve all'emersione ma alla stampa non va bene poi Chiara Saraceno l'abolizione del reddito lascia i poveri indifesi e l'abbiamo preannunciato Massimiliano Panerari se Giorgia copia House of Cards quindi non va bene niente non va bene il video non va bene la sostanza del provvedimento non va bene niente sulla stampa come il manifesto come domani come Repubblica o peraltro tra le cose surreali della giornata e qui usciamo dal decreto e cominciamo a segnalarvi una serie di altre cose ci avviamo verso la conclusione c'è il direttore di MF Roberto Sommella che oggi va in trasferta ma nell'ambito dello stesso gruppo editoriale firma un commento su Italia Oggi così Out of the Blue ricomincia con la cosa della armonizzazione fiscale cioè di una bella gabbia fiscale tutta uguale per i 27 dalla Germania alla Grecia dalla Finlandia al Portogallo tutti uguali eccetera e qual è lo schema chi è quello brutto e cattivo quello che alza le tasse no quello brutto e cattivo per Sommella è quello che le abbassa non va consentito a Irlanda a Lussemburg e a Olanda di giocare a ribasso i paradisi fiscali nell'Unione Europea devono essere aboliti la politica tributaria continentale non può essere lasciata agli stati vedete il mondo alla rovescia proprio quelli in autostrada al contrario qual è il problema non gli inferni fiscali dove le alivote sono troppo alte ma quelli che loro qualificano come paradisi fiscali perché abbassano la pressione fiscale e quindi naturalmente attraggono cittadini e imprese uno normale direbbe beh forse è il caso che anche altri paesi come dire inizino una competizione per l'abbassamento della pressione fiscale ci vuole il sistema fiscale unico gestito da Bruxelles naturalmente ad aliquota elevata sommella su Italia e infatti l'hanno fatto direttore bisogna va bene ci sono però altre quattro cose politiche significative allora una è insieme di salute e politica buone notizie per Silvio Berlusconi che potrebbe oggi o nei prossimi giorni essere dimesso dal San Raffaele e questo potrebbe consentirgli presumibilmente attraverso un messaggio audio o audio video di partecipare alla convention di Forza Italia ne scrive in modo particolare il giornale pagina 8 il CAV prepara la sorpresa pronto per la convention di Forza Italia pone invece un tema rilevante qui la stampa di politica estera per il governo attraverso Stefano Stefanini entro fine anno il governo deve decidere se sganciarsi auspicabilmente o no dal memorandum via della seta con la Cina sindrome cinese per la premier Meloni la via della seta è una bomba orologeria entro fine anno il governo deve comunicare se vuole uscire dall'intesa l'alternativa è un frontale con gli Stati Uniti peraltro è oggi annunciato su diversi giornali che arriverà dopo molti mesi di buco un nuovo ambasciatore americano verrà dal Delaware stato di residenza di Biden e il nominando è persona assai vicina a Biden vi dicevamo che oggi è anche il giorno dell'esordio del riformista di Renzi diciamo non è proprio un esordio col botto nel senso che la copertina di oggi del riformista poteva essere fatta una settimana fa o fra una settimana non è che ci siano cose sconvolgenti Napoli campione o miracolo di Spalletti poteva essere una settimana fa o fra una settimana pressione fiscale i numeri oltre gli slogan trattativa stato mafia la grande menzogna cancel culture i nuovi talebani d'occidente l'editoriale è firmato da Renzi stesso ed è titolato avviso aperto chi è il riformista uno che non va di moda e conclusione chi ha paura del futuro è terrorizzato da ciò che potrà fare l'intelligenza artificiale io non riesco a vedere tutte le implicazioni che potrà procurare vedo però tutti i giorni le implicazioni che provoca la stupidità naturale che fa in volta più paura dell'intelligenza artificiale a me e allora cerchiamo di fare del riformista un luogo dove far crescere le intelligenze anche quelle naturali di cui Renzi sceglie per la giornata di oggi semplicemente un buongiorno una presentazione di un biglietto d'avviso speriamo che questo sia un luogo dove si possa dibattere e con generosità questo è l'auspicio che formula nella sua rubrica Stefano Folli su Repubblica che in qualche misura presta e insieme auspica un buon futuro per quel giornale come sede di discussione quando Renzi afferma di non essere interessato a pubblicare un gazzettino personale ha diritto di essere messo alla prova semmai il dubbio riguarda la sua costanza quotidiana la tenacia la capacità di alimentare ogni giorno una campagna di idee senza scadere nella rissa e senza usare la testata come semplice scudo per andare in televisione ospite di quei talk show di cui vorrebbe essere l'alternativa così diciamo l'auspicio la raccomandazione di Stefano Folli poi naturalmente vi dobbiamo segnalare Lucia Annunziata che è al terzo dico terzo editoriale in cui apparentemente si occupa delle strategie di Meloni ma in pratica si rivolge ai neonominati capi delle Big Five eccole qua il progetto Giorgia 2 è quello di un piccolo governo nel governo un asciutto nucleo di competenti fedelissimi servitori dello Stato che risponde al Premier direttamente non è facile capire quando sia nata questa idea ma è facile ricostruirne la prima messa a terra prima tappa da questa pagina ne abbiamo segnalato l'avvio in aprile con le nomine delle Big Five le partecipate Eni è nel posto Leonardo Eterna chieste tutte dal Premier alla fine Chigi ha dovuto cedere su alcuni dei nomi Enel in particolare ma il Presidente del Consiglio ha ottenuto la fidelizzazione dei vertici di 5 aziende il cui valore in borsa è di 141 miliardi con un immenso patrimonio di esperienze personale contatti influenza nonché tecniche e canali per riuscire a mettere a terra il PNRR e chiamatela l'annunzia che altro deve fare poi la seconda parte del piano è l'accentramento delle competenze sul PNRR non a Palazzo Chigi ma a Chigi come diceva l'annunziata la terza parte è quella diciamo di interventi sociali tutto questo fino a dicembre è il tempo che serve al Premier per prepararsi alla prima verifica seria del suo governo le europee il volano è stato messo in moto manca solo anche in questo caso la voce degli alleati di governo così l'annunziata segnalazioni finali allora assolutamente da leggere come ogni settimana la rubrica su Italia Oggi del professor Curini oggi particolarmente inquietante perché ci dice in quelle aree della Germania ex Germania Est dove il controllo dell'allora stasi era più penetrante anche adesso e sono passati più di trent'anni dalla fine di quell'incubo i cittadini di una certa età sono quelli che sono più conformisti più resti ad esprimere opinioni difformi su una serie di argomenti vedete come diciamo gli effetti di un controllo penetrante pervasivo capillare possano durare nel tempo ovunque il ricordo di Andrea Augello prematuramente scomparso e naturalmente condoglianze ai familiari agli amici al suo partito a Fratelli d'Italia ieri i funerali con gli interventi di Giorgia Meloni il ricordo più affettuoso è quello di Francesco Storace su Libero non si dà pace il fatto quotidiano perché la Cassazione ha messo la pietra tombale alla vicenda della trattativa e allora che si fa? si cambia spalla al fucile e si ricomincia diciamo addirittura con un passo indietro nel tempo e adesso siamo alle bombe degli anni sessanta e oltre dai neri alla mafia un filo rosso nega le stragi due paginoni a firma di chi? di Roberto Scarpinato già PM oggi parlamentare 5 stelle stessi depistaggi istituzionali e medesimi silenzi tra le bombe degli anni sessant'ottanta e quelle mafiose c'è un'oscura ma evidente continuità evidente vi dice vi dice ve lo garantisce Scarpinato va bene mentre sul medesimo versante ah ecco l'anatema scagliato da Roberto Saviano sulla stampa è Federico Monga che lo sente e Saviano dice chi critica la destra è un nemico l'Italia sta diventando come la Serbia gli intellettuali sono sempre più soli va bene nell'intervistore del Corriere della Sera c'è il recupero di Luciana Castellina è Tommaso Labbate che va a sentirla e la Castellina mi ricordi molto lontani vedevo il duce a casa sua ero amica della figlia Villa Torloni era orrenda e poi tutta la storia dalla politica universitaria fino poi all'incontro con Reichlin eccetera è divertente il passaggio sui figli i miei figli da giovani erano comunisti l'America me li ha rovinati no ma può stare tranquilla perché sia Pietro che Letizia sempre comunisti sono garantiamo noi la mamma può stare tranquilla sul fatto che il frutto non sia caduto lontano dall'altra direte voi se diciamo gli intellettuali di sinistra più freschi sabiano o più maturi sono sempre quelli ma la destra che vuole fare e c'è da mettersi le mani nei capelli allora noi naturalmente speriamo che sia una malignità del foglio il pezzo di Carmelo Caruso si parla della RAI la sorte dell'attuale di Fuortes si parla di un intervento normativo in forza del quale Fuortes poi lascerebbe ma il pezzo di Caruso è concentrato sui nomi che la Lega vorrebbe giocarsi per la nuova RAI occhio al caffè mettetevi pure la cintura di sicurezza i volti della Lega uno è quello di Monica Setta conduce già due programmi e ha uno spazio a iso radio ma la Lega vuole per lei il pomeriggio feriale e festivo di RAI 1 e se potesse anche una rete intera è il loro volto e lo vogliono valorizzato un altro è quello di Laura Tecce la Lega chiede anche il ritorno di Roberto contenitore mattutino e poi collocazioni adeguate e promozioni per Giorgino Mariella e Pionati c'è anche il corporate Giampiero Zinzilli ad esempio è il più accreditato per fare il direttore safety and security e poi bisogna prendere Agora l'ultima riserva di centrosinistra di Reitre da consegnare alla coppia patriota Moreno Fumagalli del Tg2 va bene questo sarebbe il pacchetto di mischia per le grandi battaglie culturali della Lega speriamo che sia una malignità del foglio altrimenti auguri a tutti la nostra tesi la conoscete la RAI non si riforma si abbatte ma è molto più facile finiremo noi tutti al Camposanto anche i più giovani ascoltatori di questa rubrica prima che la RAI venga abbattuta e va bene lottizzeranno pure le fioriere da destra però lo dico a quelli di destra guardate che quelli di sinistra sono molto più bravi al gioco della lottizzazione voi volete giocare con com'è con la setta la tecce Poletti Giorgino Pionati bocca al lupo tanti auguri finisce qui la puntata di oggi della verità alle 7 noi ci ritroviamo questa sera alle 19 con il vice direttore della verità Claudio Antonelli e poi di nuovo domani mattina non dimenticate se volete di passare in edicolo a prendere la verità e anche panorama buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti